Risorgono gli Empire dopo la brutta sconfitta dell'altra volta Cos'era successo l'altra volta? A parte che siete scappati dopo la partita Non siete venuti, quindi è da due settimane che non giocavamo Eravamo tutti a Napoli con Ciro Tutti a Napoli con Ciro Poi oggi vi siete ripresi alla grande questa vittoria Uno scontro diretto avete vinto contro i Dodder per i playoff Adesso salite in classifica, respirate Respiriamo Allora comandate la partita, è stato un continuo a battere i ribatti La partita è stata lottatissima e poi alla fine Il più forte hanno vinto Hanno vinto? Chi è la più forte scusa? La più forte chi era? Ah ho capito E' migliore in campo? Ma Romano perché? Marco, Marco Romano non ti emozionai Comunque c'era Ciro in dubbio fino all'ultimo Alla fine ce l'hai fatto Dice che aveva la febbra Tutt'ora sono in dubbio Ancora in dubbio Comunque stiamo arrivando quasi quasi alla fine del campionato Diciamo che state viaggiando alla grande Ancora un po' di quarti di manco Dico per centrare la matematica playoff No no primi saliamo Se Ciro dice così guarda Se i primi due si ritirano E' fatto Se Ciro dice così non viene pronto Comunque il prossimo turno 7 up Sì Come la vedete 50 Non dico che per voi sia una partita facile perché l'anno scorso lo so com'è finita No 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 saranno ogni partito della sua storia Mettiamola così È 50 Qualcosa Potremmo vincere una volta Potremmo vincere Dovrà Eh diciamo bassa classifica Bassa classifica Non possiamo sbagliare Mettiamola così Qualcosa da dire Tanto passa a Romano Qualcosa da dire sui dozer Una squadra Una squadra Ci siamo giocati fino alla fine Si meritano anche loro Vabbè Dopo lo show in Romano Io vi saluto Che è meglio Show Vabbè ci vediamo allora per il prossimo Vabbè Come non avete detto niente Mi sono fermato 8 gol 8 gol di Ciro Vogliamo parlare di 8 gol di Ciro Che non segna più Dalla prima partita Vabbè Ora posso chiudere Sì Ok grazie Ci vediamo a vedere Di prossimo Ciao ciao